Caute. Spinoza portava un anello al dito sul quale era inciso questa parola. Caute, ossia fai attenzione, fai piano, sii prudente. È un motto, questo inciso su un anello di Spinoza, che ha una sua sorprendente e indicativa somiglianza con quel procedi mascherato che era il motto di Cartesio. Come a dire, nell'importanza di non rivelarsi mai interamente, di essere prudenti appunto nel dire, o meglio, nel non dire tutto ciò che si pensa, nell'offrire il proprio pensiero in modo camuffato, ambiguo, ecco, tale da rivelare e nascondere allo stesso tempo il suo senso più profondo, più nascosto appunto. Non si può certo dire che sul piano filosofico e dunque neanche nella sua vita in generale, Sebbene Spinoza abbia tenuto fede davvero a questo precetto, sebbene sia stato più volte riconosciuto dagli studiosi, come nell'etica Spinoza abbia tentato di mascherare, certo, la radicalità dei contenuti dietro uno stile espositivo in qualche modo esoterico, appunto. E comunque ambiguo, allusivo, a differenza dell'atteggiamento invece più scoperto e diretto che aveva tenuto nel trattato teologico-politico. Quattro anni dopo la pubblicazione nel 1670 del trattato teologico-politico, infatti, le corti d'Olanda emanarono contro l'opera politica di Spinoza un decreto di condanna. Ecco, da questo momento inizia la fama di Spinoza come filosofo destinato a suscitare scandalo. Spinoza fu investito sicuramente da attacchi rabbiosi. Sia i conservatori che i liberali videro nel tractatus e nell'indipendenza intellettuale che animava il suo metodo di indagine una grave minaccia. Possiamo prendere come esempio dello scandalo provocato dal libro quanto scrive in proposito il filosofo tedesco Leibniz nel 1671, ossia scrive il perversissimo libro Il Tractatus, sostiene il più ingiusto diritto della natura, dissolve l'autorità dei libri sacri e incita all'ateismo. Ecco, in quello stesso decennio erano usciti altri libri che difendevano la tolleranza religiosa e la libertà politica. Opere che però non avevano suscitato le stesse reazioni furibonde, furiose, delle tesi spinoziane. Spinoza era destinato invece a scatenare le passioni più violente per via della radicalità delle sue stesse idee, assieme al suo smantellamento, senz'altro, dell'autorità delle scritture. E le accuse nei suoi confronti ovviamente crebbero una volta che, morto il filosofo, in seguito alla pubblicazione delle sue opere nel 1677, vengono conosciute le tesi metafisiche e teologiche, soprattutto contenute nell'etica. Nel 1675 il filosofo rinuncia infatti a pubblicare la sua opera appena terminata ad Amsterdam, in seguito alle reazioni scandalizzate da alcuni teologi. Le sue tesi, l'identificazione di Dio e della natura, ad esempio, oppure l'attribuzione a Dio dell'attributo dell'estensione, ossia della materia, la negazione di un Dio trascendente, la negazione a Dio dell'attributo morale, della bontà e della provvidenza, la negazione di libero arbitrio, sia in Dio che anche nell'uomo. Ancora, che Dio non agisce nella natura mossa, mosso da uno scopo, ma per pura e geometrica necessità, un Dio necessitato. Infine, la negazione dei miracoli, ecco. Ecco, queste sono le sovversive tesi sostenute da Spinoza nella sua etica, quelle stesse dottrine che costituirono anche le basi, ecco, di quella religione, della tolleranza, che questo filosofo, particolarmente incauto a questo punto, nonostante il suo anello delineò nel suo trattato teologico-politico, tesi e dottrine che ovviamente rafforzavano quell'accusa di ateismo che ormai da tempo accompagnava la fama del filosofo. Le affermazioni spinoziane sulla sostanza esortavano certamente a un approccio razionale alla conoscenza di Dio, ma il panteismo, l'immanentismo, in generale l'interesse che Spinoza esprimeva per la realtà terrena e concreta, anziché per la trascendenza. E poi soprattutto la centralità dei sentimenti gioiosi, della felicità per l'uomo, e la condanna invece della cupezza, della tetragine, della rinuncia, dell'ascetismo e di tutto ciò che mortifica l'uomo e il corpo. Ecco, tutto ciò non poteva sicuramente costituire una dottrina che i suoi critici fossero disposti a riconoscere come la vera religione, come la religione rivelata, ecco, e che anzi videro come una provocazione pericolosamente sovversiva, qualcosa che andava condannato. Nel 1678, infatti, le autorità olandesi bandirono su tutto il territorio della loro giurisdizione l'etica. E anche tutte le altre opere di questo filosofo, che lungi dall'essere cauto, come lo ammoniva a fare il daimonion del suo anello, fu invece un filosofo estremamente radicale, e che, nonostante tutti i tentativi fatti in vita e soprattutto in morte per ridurlo al silenzio, come afferma anche un recente studioso, ecco, ultimamente, tra il 1650 e il 1750, non ebbe alcun rivale capace di oscurarne l'importanza. E concludo con le parole di quello che forse fu il più grande filosofo dell'Ottocento, sicuramente tra i più grandi, l'idealista tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il quale nelle sue bellissime lezioni di storia della filosofia ebbe a scrivere di Spinoza che è il punto cardinale della filosofia moderna, tanto che o lo spinozismo o nessuna filosofia. Grazie.